A Miami, test di lusso contro i campioni d'Europa del Chelsea per il Milan di Allegri. Milan che gioca meglio dei Blues al 27esimo, la prima occasione da gol. Questo destro con la punta del Maliano Traoré, poi sale in cattedra Boateng con il numero 10, con questo destro al 29esimo, poi arriva la prima grande occasione da gol sul piede mancino di Emanuelson che però calcia alto. Al secondo minuto della ripresa invece l'unica occasione da gol per il Chelsea e questo sinistro di controbalzo di Michel bloccato da Amelia. Poi al 51esimo, grandestro da lontano di Ambrosini che va fuori di pochissimo. Cech è preoccupato e fa bene perché al 67esimo arriva il gol del Milan. Boateng dentro per Emanuelson, poi al Sharawi, para Cech, il pallone va sull'olandese che col sinistro a porta vuota fa 1-0 e bissa il gol vittoria dell'ultimo test contro lo Schalke a Miami, vince il Milan 1-0.